Analisi del mercato Bitcoin BTC, tendenze attuali e considerazioni sull'investimento Il mercato delle criptovalute, in particolare il Bitcoin BTC, è noto per la sua volatilità e la sua capacità di oscillare significativamente in breve tempo. Per comprendere meglio cosa sta accadendo al BTC e cosa potrebbe significare per gli investitori, esamineremo le tendenze attuali e forniremo alcune considerazioni sull'investimento. Tendenze attuali del mercato Bitcoin BTC 1. Volatilità Il BTC è noto per la sua volatilità, e recentemente ha mostrato una serie di fluttuazioni significative nei prezzi. Questa volatilità può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui notizie di mercato, eventi geopolitici e sentiment degli investitori. 2. Mercato in ribasso Dopo aver raggiunto il suo massimo storico nel 2021, il mercato BTC ha subito una correzione significativa. Questa correzione è stata in parte causata da preoccupazioni sulla regolamentazione, prese di profitto da parte degli investitori e la crescente incertezza economica globale. 3. Regolamentazione La regolamentazione delle criptovalute sta diventando una questione importante. Diverse nazioni stanno esplorando regolamentazioni più rigorose o addirittura il divieto delle criptovalute. Questo ha contribuito ad alimentare l'incertezza nel mercato. Considerazioni sull'investimento nel BTC 1. Diversificazione L'investimento in criptovalute, compreso il BTC, dovrebbe essere considerato come parte di una strategia di diversificazione più ampia. Non mettere tutti gli investimenti in un'unica attività è una pratica prudente per mitigare il rischio. 2. Orizzonte temporale L'investimento nel BTC dovrebbe essere a lungo termine. La volatilità a breve termine può portare a perdite significative, ma nel corso del tempo, il BTC ha dimostrato un potenziale di apprezzamento. 3. Ricerca ed educazione Prima di investire nel BTC, assicurati di fare ricerca e comprendere appieno le dinamiche del mercato delle criptovalute. Educarsi sul funzionamento della tecnologia blockchain e delle criptovalute è essenziale. 4. Gestione del rischio Utilizza ordini stop loss per limitare le perdite e non investire più di quanto puoi permetterti di perdere. La gestione del rischio è fondamentale nell'investimento in criptovalute. 5. Monitoraggio costante Mantieni un monitoraggio costante del mercato e delle notizie. Le criptovalute possono essere influenzate da eventi imprevisti, quindi è importante essere informati. In conclusione, il mercato BTC è caratterizzato da volatilità e incertezza, ma può offrire opportunità di investimento. La decisione di vendere o detenere BTC dipende dalle tue circostanze individuali, obiettivi di investimento e tolleranza al rischio. Consultare un consulente finanziario esperto può essere utile per prendere decisioni informate. In ogni caso, l'investimento in criptovalute dovrebbe essere parte di una strategia di investimento più ampia e diversificata. Condividi, iscriviti e unisciti alla nostra nuova avventura su YouTube.